Members è un plugin molto utile per modificare i profili degli utenti, per creare nuovi profili e anche per definire aree limitate di accesso alle singole pagine o ai singoli articoli. Per attivarlo, come tutti gli altri plugin, bisogna cliccare sulla voce attiva del menu e dopodiché compariranno nuove voci in alcuni menu, in particolare nel menu utenti e nel menu strumenti. Dopo l'attivazione, quindi, la prima cosa da fare è accedere dal menu impostazioni alla voce Members Components. Questo serve a stabilire quali funzioni del plugin si devono attivare. In questa schermata sono elencate tutte le nuove voci attraverso le quali io posso poi intervenire sul mio blog. La prima voce la vediamo rapidamente. Edit roles serve a modificare profili esistenti. Con la voce New roles posso creare nuovi profili, oltre a quelli già messi di default a disposizione dal mio tema e dal mio CMS. È molto importante il campo Content Permissions, perché insieme a quelli successivi, Short Codes e Template Tags, mi permette di andare a definire per ciascun profilo di utente esattamente le funzioni che questo può svolgere e anche le aree del blog alle quali può accedere oppure può non accedere. Con l'opzione Private Blog, che non è attivata in questo caso, posso anche far sì, posso anche forzare ad accedere al blog sempre attraverso un account, quindi attraverso login e password, user e password. A questo punto, dopo aver deciso quali funzioni attivare, clicco sul pulsante Attiva. La seconda cosa da fare è accedere al menu Utenti e cliccare sulla voce Roles. In questo modo, devo attribuire almeno a un profilo tutte le nuove capacità create dal plugin. Tipicamente il ruolo che ha tutte le capacità è quello di Administrator, per cui entro nel profilo Administrator, ho questa schermata, che è la schermata che mi fa vedere tutte le cose che l'Administrator può fare. Ovviamente per ciascun profilo di utente ho questa medesima schermata, i segni di spunta saranno diversi, quindi differenti saranno le capacità di intervento sul blog di ciascun profilo. L'Administrator ovviamente ha tutte le capacità di intervento, bisogna che io attribuisca all'Administrator anche le nuove capacità previste dal plugin. Quindi comincerò a cliccare su Crea nuovi ruoli, edita, cioè modifica ruoli esistenti, cancella i ruoli e limita l'accesso ai contenuti. Dopo aver spuntato, anche in questa maniera, aggiorno il profilo. A questo punto, se notate, forse non ho preso bene il comando, adesso dovrebbe aver funzionato, ho notato che il comando è stato preso adesso, perché nel menu utenti ho una voce che prima non c'era, New Role, è una delle nuove capacità che è stata attribuita al profilo di amministratore, cioè quella di creare nuovi profili. Quali sono i profili esistenti? I profili esistenti sono visibili attraverso il menu utenti, alla voce roles. In questo momento ho solo questi profili attivi, sono quelli di default, quelli che il blog mi ha messo a disposizione nel momento stesso in cui l'ho creato. Sono quelli di amministratore, ovviamente, di autore, di contributore, di editore, di sottoscrittore. Diverse sono le possibilità, l'amministratore ha tutte le possibilità, e via via gli altri profili hanno un certo numero di possibilità di intervento sul blog. Il profilo editore che io ho già cambiato è quello che ho inteso modificare per dare la possibilità a un utente registrato di muoversi in una maniera più autonoma sul blog, e quindi di intervenire, di inserire nuove pagine, di cancellarle, e di fare tutte le operazioni che qui vedete elencate. Ritorno quindi ai profili di default, prendo nota del fatto che ho modificato il profilo editore, e a questo punto non faccio altro che associare il profilo di editore, e qui lo vedete molto bene, a un utente registrato. Come faccio a associarlo? Semplicemente spuntando il nome dell'utente, e poi definendo attraverso la tendina a discesa, quale profilo gli voglio attribuire. In questo caso non voglio fare cambiamenti, e quindi lascerò all'utente Giulio il profilo di editore, che però è stato modificato da me, e quindi ha molte più possibilità di intervento sul blog rispetto a quelle che in origine aveva. Se io volessi creare dei nuovi profili, cosa che sarebbe peraltro migliore, devo utilizzare la voce del menu utenti New Role. A questo punto, la quarta e ultima cosa che devo verificare è la seguente. Quando devo modificare un articolo, oppure una pagina, ho anche questa altra possibilità. Scelgo un articolo, in questo caso, anno nuovo, vita nuova, il primo dell'elenco, scorro l'articolo fino alla fine, e vedo che posso anche stabilire chi ha accesso e chi non ha accesso a questo contenuto. Quindi, se spunto uno di questi profili, impedisco l'accesso a questo contenuto al profilo selezionato. La stessa cosa vale per le pagine. Scelgo una pagina da modificare, e vedo che alla fine posso decidere chi avrà accesso o chi non avrà accesso in questa pagina. Questa funzione può essere molto interessante nel momento in cui decido che il mio blog può essere costruito da una molteplicità di utenti ai quali attribuisco a ciascuno la sua funzione. Grazie. Grazie.